non me ne faccio un c******o io voglio stare con te tu che c******o vuoi? mi faccio stare con te tu che c******o vuoi? mi faccio stare con te guardami il bacio guardami il bacio guardami il bacio hai sentito? ma se ti rendi conto che io ci sto vicino da cinque anni e se questa è c******o di modo in cui mi ripaghi facendone un c******o di matrimonio davanti ai miei occhi ma te ti rendi conto di come mi sento a vedere la tua m**** l'intervista dove parli di lui guaccia me ne vado vuoi che me ne vado? Anna ma finalmente l'hai capito no? avevi capito? avevo capito che c'era qualcosa che non andava qui però Anna capisce questa situazione e guardate cosa succede non lo sai io come sto tu non lo sai Anna non lo puoi sapere ma la vittima non sei tu non sei tu per colpa di quello stifoso tu veramente vuoi fare con quello stifoso veramente battene vattene 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 vattene